Pandabruni, primi due gol in bianco celeste, una bella emozione oggi. Sì, dai, sono molto soddisfatto, non tanto per i gol, ma per come stiamo lavorando durante la settimana, per come sto lavorando, per come sto rientrando all'infortunio. Mi sono fatto, l'ultima partita dello scorso anno, mi sono lesionato il cercine e quindi pensavamo fosse una cosa più lunga. Grazie allo staff sta migliorando tutti i giorni sempre di più, ora, oggi è andata abbastanza bene, i due gol che ho fatto sono solo frutto di azioni corali della squadra, comunque per il mio ruolo devo tanto alla squadra. Ecco, più di un mese e mezzo di lavoro, come sta andando il tuo inserimento all'interno con gli altri ragazzi? No, sì, sì, appunto, sta andando tutto molto bene, siamo un bel gruppo, lavoriamo bene tutti i giorni e tanto, soprattutto, stiamo caricando in vista delle partite che verranno più importanti, diciamo di più spessore e niente. Grazie.